In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza ci sono rallentamenti tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze, per corsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. In A1 per lavori in orario 8-18 sarà chiuso il tratto tra il Bivio con la variante di Valico e Roncobilaccio in direzione Bologna, in A12 entrata chiusa per lavori a Colle Salvetti in direzione Livorno. A Firenze per lavori chiusa al transito la corsia riservata ai mezzi pubblici in via Senese. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!